Una chiesa gremita, quella di Sant'Alfonso Maria dell'Iguoria da Cerra per l'ultimo saluto a Domenico Fatigati. Morire sul lavoro, morire di lavoro, a 52 anni lasciando moglie e tre figli. La comunità cerrana questa mattina si è fermata per stringersi alla famiglia. Dolore, irrabbia, i sentimenti più diffusi, serrande abbassate, negozi chiusi al passaggio del corteo funebre, bandiere a mezz'asta in segno di lutto in comune, il lutto cittadino proclamato dal sindaco Tito Del Rico. A celebrare il rito funebre è stato Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, presente una folta delegazione di operai e sindacati, il sindaco e l'amministrazione comunale acerrana e tantissimi cittadini. Dall'Irpinia anche il sindaco di Prato la Serra, Gerardo Galdo, altre fasce tricolori hanno voluto rendere omaggio all'operaio morto schiacciato in fabbrica all'alba di giovedì scorso. Non doveva finire così, dirà il Vescovo nell'Omelia, ricordando i sacrifici di Mimmo e della sua famiglia. Questa è l'ora più buia. I numeri fanno impressione. Dopo Firenze, Prato la Serra, è uno scandalo inaccettabile, utilizza le parole del presidente Mattarella, Monsignor Di Donna, per lanciare il monito sulla necessità di maggiore sicurezza. La vita, ha aggiunto, è più grande di qualsiasi costo. A fine cerimonia la straziante lettera del figlio. La famiglia si preparava a celebrare la comunione della piccola di casa. Sarai sempre l'uomo perfetto, papà, il nostro esempio. Non molleremo, andremo avanti secondo i tuoi insegnamenti.